Un insegnante di 44 anni di Castrofilippo è finito nei guai a caso di un incidente stradale che si è verificato nelle trascorse notti in via Margio Vitale a Canicattì. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua Volkswagen Golf, restando ferito a causa dell'incidente, che per fortuna non avrebbe coinvolto altri mezzi. Soccorso è trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Così come il passeggero che si trovava sulla Golf, il 44enne insegnante sarebbe stato trovato ubriaco. Così i carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato sarebbe quella di guida in stato d'ebbrezza. I medici dell'ospedale di Canicattì, infatti, avrebbero riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,06 grammi per litro. I militari dell'arma di Castrofilippo, infine, coordinati dal comando della compagnia di Canicattì, gli hanno anche applicato la sanzione accessoria dell'immediato ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo di cui è risultato essere proprietario.